Un ampio articolato esposto querela sottoscritto da 19 partecipanti alla prova di selezione che si è svolta il 9 giugno per il concorso bandito dall'azienda di trasporti CTP. È stato presentato alla procura della Repubblica di Napoli. A esporne i contenuti sono stati questa mattina i vertici del coordinamento cittadino e del gruppo comunale del PDL a Napoli. Nel mirino la trasparenza nei criteri di selezione. Queste prove a nostro avviso sono state irregolari e il concorso a nostro avviso va ripetuto e va sicuramente annullata la prova che c'è stata. Va annullata perché durante le prove si poteva telefonare a casa, si poteva mandare sms, si poteva scambiarsi informazioni. Non c'è stato assolutamente nessun tipo di controllo. Una cosa veramente a terzo mondo è una cosa veramente inaccettabile. Noi abbiamo delle prove, abbiamo dei filmati, abbiamo delle fotografie di quello che è successo e per questo abbiamo già inviato il tutto alla procura della Repubblica con un esposto denuncia filmato da almeno una trentina di partecipanti. Consigliere Lamura, in questa denuncia che fa la PDL c'è anche un risvolto politico? Ma un risvolto politico. Noi abbiamo contestato politicamente questa vicenda da subito. Prima ancora che gli stessi giovani che hanno partecipato al concorso hanno potuto evidenziare le anomalie che il consigliere Ambrosino ha scoperto così puntualmente. Le valutazioni dei giovani, cioè il riscontro dei giovani partecipanti al concorso, si è avuto dal punto di vista pratico ma le valutazioni politiche sono state avanzate molto tempo prima. Grazie a tutti.